Grazie a tutti Riccio dei Ricci era un uomo che viveva qui nel XII secolo e prese questo nome curioso dalla sua abilità di capire il tempo ideologico dei umani guardando come i Ricci guardano il suono. Nel XII secolo si parla di medioevo, si parla di magia, stregoneria, quasi questa persona vettemica. Però le sue predizioni erano talmente accurate, talmente utili per la città di Moncebocciano che la sentenza non fu mai portata avanti. Infatti prese il nome di Riccio dei Ricci, prese lo schermo del Riccio riguardo al sole e è così che nasce il nome della famiglia Ricci. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.